Un'occasione per conoscerci e per iniziare un cammino insieme. Il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha aperto così l'incontro con i 40 sindaci presenti neo eletti a Villarecalcati. Un punto di inizio con tanti temi e tante sfide messe sul piatto dalle amministrazioni. La continuità anche di un lavoro che si sta facendo sul territorio da parte di tutte le istituzioni. In primo luogo gli stessi sindaci che oggi sono presenti e che insieme al presidente della provincia e all'assessore regionale agli enti locali avrò il piacere di conoscere e con i quali avvierò un rapporto altrettanto interessante come quello che ho avuto con i loro predecessori. Io darò intanto la mia disponibilità a seguire con loro i temi che riterranno di sottoporre la mia attenzione e poi chiederò a loro la collaborazione di sempre, chiederò a loro di continuare a dare tutto il supporto anche alle istituzioni dello Stato che sono presenti nella provincia, a cominciare dalla prefettura, ma penso soprattutto alle forze di polizia e alla protezione civile che gestiamo insieme alla regione e alla provincia, a tanti temi e soprattutto poi vorrei dialogare un po' più con loro e con i loro collaboratori in materia di PNRR perché come tutti sanno la prefettura ha istituito una cabina di regia al fine di affiancare i sindaci nelle loro problematiche di attuazione del piano e dei progetti connessi.